Ciao a tutti ragazzi da Gamehub Borgossesia, oggi parliamo di Tom Clenches' The Division. Bene ragazzi, eccoci qua. Allora, The Division in sostanza è ambientato a New York e dopo la liberazione di questo virus in soli cinque giorni il governo ha mandato sul territorio una squadra di agenti speciali che fa parte appunto della divisione. Beh, il gameplay non è di uno sparatutto ma è di uno shooter in terza persona. Il gameplay è abbastanza personale e ti lascia giocare nel modo in cui preferisci. Completamente personalizzabile il personaggio iniziale. Il gioco richiede obbligatoriamente una connessione a internet sempre attiva per appunto giocare in multiplayer con altri giocatori che potranno essere o nostri alleati oppure traditori e quindi di ammazzarci. Un gioco secondo me molto bello dal punto di vista anche della grafica. Si vede che Ubisoft ha tratto vantaggi anche dai suoi vecchi giochi, quali Watch Dogs. Credo che sia molto divertente giocare appunto nella modalità multiplayer che dà il suo valore massimo al gioco. Questo è il mio parere e qualche indizio su come è stato realizzato Tom Clench's The Division. Cliccate mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, seguite anche la nostra pagina Facebook Gamehub Borgosesia e noi ci vedremo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!